Si espande l'inchiesta della Procura di Catania sulle partite che sarebbero state comprate nel girone di ritorno dello scorso campionato di Serie B per evitare che la squadra, gli ultimi posti della classifica, rischiasse la retrocessione. Ben 5 vittorie consecutive pare tutte frutto di accordi e di giocatori avversari, tutti difensori pagati per perdere. Tra questi il 36enne Cristian Terlizzi, ex Pescara, che nella stagione appena trascorsa ha militato nel Trapani e prima ancora nel Catania. 4-1 la vittoria atnea nel derby con Terlizzi che ha realizzato anche un autogol. Informazioni di garanzia anche per Riccardo Fiamozzi del Varese, Luca Pagliarulo, Antonio Dai del Trapani, Matteo Bruscagin del Latina, Alessandro Bernardini del Livorno. Ma non sarebbe finita qui, in arrivo altri provvedimenti. Infatti un'ingente somma di denaro è stata sequestrata in casa di Giovanni Impellizzeri, l'agente di scommesse online tra gli arrestati di ieri nell'ambito dell'operazione ribattezzata I Treni del Gol. Si tratta di 100.000 euro. Invece nella casa romana di Piero Di Luzzi, originario di Torricella Peligna, sequestrato un libro mastro con le somme di denaro versate per corrompere i giocatori. Il presidente del Catania, Antonino Pulvirenti, si è dichiarato estraneo a tutto questo, ma le intercettazioni telefoniche lo inchioderebbero al pari dell'ex DS del Pescara, Daniele Dellicarri, che parlava in codice di orari di treni, riferimento ai numeri di maglia di giocatori da contattare, dello stesso Di Luzio e dell'avvocato molisano Fernando Arbotti, procuratore di alcuni dei calciatori interessati. Intanto importante colloquio telefonico tra il presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, il presidente della Lega di Serie B, Andrea Abodi, al centro la proposta concernente la confisca dei beni nei confronti dei soggetti colpevoli del reato di frode sportiva e dell'inserimento del reato di frode sportiva stesso a raccolta illecita di scommesse sportive nel perimetro del Decreto Legislativo 231 del 2001, che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche in favore delle quali vengono commessi reati. La proposta di legge della Lega di Serie B prevede inoltre l'introduzione di severe sanzioni pecuniarie interdittive nei confronti della società nell'interesse o avvantaggio della quale abbia agito l'autore dei reati sportivi in questione. Il presidente Cantone, da parte sua, ha dato la piena disponibilità nel farsi promotore presso le sedi istituzionali affinché questa proposta possa diventare quanto prima legge.